Grazie ancora alla nostra Giulia che domani avrà un compito ancora più duro perché avremo veramente tante competizioni e avremo forse ancora più difficoltà di scegliere i vincitori oppure no. È sempre difficile perché ogni gran gara è una competizione intanto tutto con se stessi quindi ogni artista cercherà di fare sempre di meglio e poi siamo ad alcuni simili livelli quindi sì, sarà difficile. Un applauso anche alla Giulia! Oh dai, su, facciamoci sentire! Un applauso ai giurati e un applauso ancora più grosso a quelli che non hanno vinto, che non sono sul podio ma che stasera ci hanno regalato veramente una grande, grande serata di arte. Forte, forte l'applauso! Grazie, grazie mille, grazie! Grazie e buon riposo e potremmo dire buona doccia alle nostre modelle che sarà una doccia un po' triste secondo me anche perché in effetti togliersi di dosso tutto questo lavoro.